Consigliere comunale regionale Massimiliano Stellato, oggi diciamo che Italia Viva è al centro anche della discussione politica in questo momento nella città ma anche della discussione giornalistica perché tutti vi danno come la forza maggiormente accreditata a trovare un equilibrio all'interno della maggioranza che attualmente regge il governo della città di Taranto e il governo Melucci. Ci vuole raccontare anche ai nostri utenti di Cosmopolis come stanno realmente le cose e quali sono i propositi che vi animeranno nei prossimi mesi, nelle prossime settimane? Diciamo che la sfida che attiene ad una comunità intera, quella della nostra città, che si approccia delle sfide straordinarie, quelle di un accordo di programma rispetto allo stabilimento Exilva che finalmente pare incanalarsi nella strada giusta, quello dei giochi del Mediterraneo, al netto delle difficoltà non solo burocratiche che con il tempo si sono avvicendate nella prassi amministrativa del comune di Taranto, noi non potevamo far mancare il nostro sostegno alle cose da fare. Ecco noi non ci appiazzoniamo alla appartenenza della nostra forza politica e del nostro gruppo consigliare a questa o a quell'altra posizione politica di maggioranza o di opposizione. Pensate un pochettino, io ho fatto qualcosa in più, ho provato a raccontare ai miei amici che la politica non si fa con i sentimenti, dico spesso una frase forte, è vero, ma non si fa nemmeno con i risentimenti. Quindi io sono stato tra coloro che ha mandato a casa Melucci, ormai lo dicono quasi tutti, sono uno di quei 17. In quel momento però i cittadini hanno detto che abbiamo sbagliato, ci hanno dato torto, hanno confermato a Melucci con un risultato addirittura di ampio consenso, più del 60% ha scelto Melucci e probabilmente abbiamo dovuto interrogarci su questa questione. Melucci ha fatto un appello in Consiglio Comunale raccontandoci la necessità di offrire un gesto d'amore per questa città. Io in realtà quando si parla di amministrazione più che d'amore parlo di fatti concreti. Mi sono appassionato, ci siamo appassionati a parlare di Comparto 32, abbiamo voluto parlare di quello che succedeva nella Porta Lecce con il nuovo piano regolatore, abbiamo voluto parlare di quello che metteva insieme i servizi dell'ospedale San Cataldo, abbiamo voluto parlare, questo sì, dell'accordo di programma perché finalmente possiamo dire la nostra rispetto ad una trasformazione dell'ex stabilimento Ilva del complesso siderurgico ormai a tutti i noti e ovviamente lo abbiamo fatto provando a toglierci la casacca di appartenenza per indossare tutti quanti insieme la maglietta rosso-blu. Sembra una frase fatta ma abbiamo chiarito che non intendiamo appassionarci a questa o a quell'altra poltrona, a questo o a quell'altro assessorato piuttosto che alla guida di una partecipata. Vogliamo dare il nostro contributo, lo vogliamo fare senza una politica urlata, senza gli annunci roboanti di inciucio a tutti i costi e addirittura abbiamo anche provato a ritrovarci in una città diversa da Taranto insieme al sindaco, a Roma ormai sembra il segreto di Puccinella, io che sono campano Puccinella la conosco bene. Ci siamo incontrati a Roma e abbiamo addirittura dialogato di PNRR, della possibilità di rendere finalmente internazionale questa città, non soltanto dal punto di vista culturale. C'è un'occasione quella dei giochi del Mediterraneo, ci sono i fondi per il PNRR, la possibilità di dire la nostra la vogliamo mostrare con interesse, perché la domanda che interesse c'è dietro questo accordo possibile, eventuale con l'amministrazione, l'interesse per la città. Su questo rispondiamo presente. Nei giorni scorsi c'è stata un'intervista che ha rilasciato il suo collega in Consiglio Comunale di Gregorio, nella quale Cusa si faceva riferimento al fatto che se Italia Viva dovesse entrare a sostegno della maggioranza, il PD potrebbe decidere di togliere il proprio sostegno a questa amministrazione. Cosa risponde, se vuole rispondere, a queste affermazioni di Di Gregorio? Ma il collega Di Gregorio io capisco bene che sia un po' agitato in questi giorni, perché il sindaco di Taranto, che è stato tra gli esponenti del Partito Democratico, addirittura potrebbe affacciarsi a un altro progetto politico e non che Stellato e i suoi consiglieri entrano in maggioranza, ma che potrebbe essere il sindaco ad entrare nel mio partito, chissà. Terenzio Lomartire, segretario cittadino di Italia Viva, quali dovranno essere nel prossimo futuro le politiche che andranno adottate per migliorare la qualità della vita nella nostra città? La mia visione politica non può essere disgiunta da quella della mia visione professionale di mestiere faccio l'architetto, faccio il pianificatore e a quello mi devo rivolgere. Certo che un'operazione di questo genere deve far riferimento necessariamente a quello che è lo stato dell'arte, le condizioni in cui questa città oggi volge, al di fuori di quelle che possono essere le sensazioni o gli umori, io purtroppo sono costretto a leggerli alcuni dati, però la città che ha il reddito più basso, 11.500 euro, dice l'Istat nel 2017 rispetto ai 20.000 di Bari e ai 17.000 di Foggia, c'è un decremento della popolazione che nel 2017 ha raggiunto già una soglia minima, la cosa preoccupante è che oltre il 50% è compresa da persone che sono tra i 45 e i 60 anni. La cosa grave è che su 100 abitanti 58 dipendono da quei 100 abitanti che hanno un'età superiore ai 50 anni, quindi la visione della città deve mirare innanzitutto a risolvere queste problematiche. Naturalmente non lo si fa solo e semplicemente attraverso l'utilizzo dei lavori pubblici che per quanto possano incidere sul PIL del 16% non garantiscono però il benessere interno lordo e devo dire che per esempio molti non sanno che su 41.000 aziende 12.000 sono nel commercio ma 10.000 sono nell'agricoltura, quindi oltre il 50%, quindi tutta la pianificazione che è stata fatta fino ad oggi ha risolto qualcuno di questi problemi per poi non arrivare a quello che secondo me è la fase più negativa. Oggi su 35.000 stanze oltre il 70% è abbandonato. In questo non rientra solo la città vecchia, il borgo è fra un po' il fenomeno dello spostamento dalle periferie tipo Talzano, San Vito, Lama verso Taranto e in questo momento la cosa che nessuno guarda con attenzione è che questa migrazione va verso Paolo VI perché è ancora ritenuta quell'area della città più appetibile, quindi in una parola rendere attrattiva questa città che non è una cosa facile. La coordinatrice provinciale di Italia Viva è un partito che deve dare anche forza a quelli che sono i progetti spendibili per la città e anche un certo pragmatismo amministrativo che deve caratterizzare una forza come la vostra e anche la possibilità che voi diate consigli fattivi su quella che dovrà essere poi la messa in opera di queste politiche. Sicuramente Italia Viva è il partito della primavera delle idee, siamo sempre quelli dei progetti e non delle polemiche e dei personalismi. Per quanto riguarda appunto questa città, il mio pensiero ma anche di chi mi accompagna in questo percorso è quello che a prescindere dall'essere maggioranza o posizione, se c'è un progetto positivo per la città, va comunque sostenuto perché la ricaduta positiva è sulla città e se invece qualcosa non va, che tu sia maggioranza o minoranza, devi avere il coraggio appunto di dire che la cosa non è ideale per il territorio dove vivi, a prescindere appunto della tua appartenenza, perché io dico questo, quando uno lavora bene, lavora sicuramente bene per la comunità, ma quando lavora male, non è che lavora male e ne risente sicuramente la città, ma ne risente anche chi è investito di quella responsabilità che è quella appunto di guidare, di amministrare bene, perché non verrà in un futuro riconfermato in quanto gli elettori secondo me non sono stupidi, cioè la vera vittoria della politica oggi come oggi è quando alle prossime elezioni sentiremo che la percentuale dell'assenzionismo si è abbassato di 3-4 punti. Se noi amministratori e dirigenti di partito non facciamo una seria analisi su questo punto che è l'assenzionismo e non riavviciniamo le persone all'espressione più alta che appunto il voto, noi abbiamo fallito.